Il più bel dono che si potesse fare a una donna speciale, ad un grande politico che ha fatto di questa terra una terra nuova. La Calabria oggi non potrà mai più avere rappresentanti politici che non siano sul solco di Iole Santelli. Di qualsiasi appartenenza, che sia di destra, di sinistra, di centrodestra, di centrosinistra, non potranno prescindere dal lavoro enorme che ha fatto Iole. La giornata di oggi è un piccolo riconoscimento, però è un segnale. Un amore materno, con un amore materno che ha seminato in tutta questa terra che va dal pollino a oltre lo stretto. Un amore materno con una gioiosa speranza in un futuro che lei stessa ha voluto che fosse agile, che fosse nuovo, che fosse altro rispetto a quello che c'era.